No, diciamo che il Torino ha trovato una Juventus importante che ha aggredito il Toro all'inizio. Era difficile giocare contro la Juventus stasera, quindi ci sono molti meriti della Juventus che hanno più che dei meriti del Torino. Poi è normale in dieci la partita è andata via abbastanza senza eccessivi problemi. Perché se sapevate si giocava a Barcellona, che è ancora una delle squadre più forti al mondo. Poi, se si perde di vista la realtà, questo non è un problema mio. La Juventus deve giocare il passaggio contro lo Sporting e l'Olimpio Cosme. Questo era prima e dopo di Barcellona.